buona giornata amici da massimo foghetti oggi è mercoledì 15 dicembre 2021 il sole questa mattina sorge alle 7.35 e tramonta alle 16.32 in modo particolare a Fanon l'orario un po' esteso in tutta la regione e oggi vediamo che si festeggia una santa particolare una santa poco conosciuta dalle nostre parti ma molto venerata in modo particolare in Liguria Genova è una santa che visse tra il XVI e XVII secolo si tratta di Santa Virginia Centurione Bracelli la vedete qui in questa immagine fu una donna una ragazza diciamo sposatasi a 15 anni con Gaspare di famiglia illustre Gaspare Bracelli fu però un matrimonio infelice infatti il marito era un uomo di molti vizi e morì prematuramente rimasta vedova a Santa Virginia si dedicò alla educazione delle due figlie ma anche ad aiutare la gente in povertà fondò l'ordine delle suore di nostra signora del rifugio in Monte Calvario per formare gli insegnanti è stata proclamata santa relativamente di recente l'8 maggio del 2003 da Papa Giovanni Paolo II ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo perdura il tempo buono sulle marche una giornata stabile tra sole e nubi sparse qualche addensamento in più entro la sera le temperature minime rimangono fredde nelle valli interne e la temperatura uscilla tra i due gradi di minima e gli 11 di massima comunque la tendenza è quella di andare in calo e quindi passiamo all'apertura dei quotidiani questa mattina a partire dal resto del Carlino e vediamo tre titoli richiamati in prima pagina per quanto riguarda la sanità il titolo principale vaccini ora alla fascia 5 11 anni si parte da oggi cominciano le prenotazioni sul portale o al numero verde o tramite i pediatri e da domani si possono effettuare le iniezioni il secondo titolo riguarda l'incidenza del virus che corre in modo particolare nelle frazioni nei paesi a nord della provincia in modo particolare a Tavuglia e Gradara poi vedremo la tabella e poi la prima dose la carica dei mille sono i ragazzi under 19 la barriera dei contagi le altre notizie riguardano il restauro di Rocca Costanza a Pesaro un monumento che è tutto da valorizzare e poi un incontro tra il sindaco di Fano e il sindaco di Grosseto per accelerare il completamento della Fano Grosseto di questa superstrada che attende la sua definizione da circa 50 anni la fotonotizia ci fa un po' invidia la fotonotizia principale del resto del Carlino perché ritrae una coppia di pesaresi che per evadere dal covid ha fatto un po' con tutte le differenze del caso come fecero i giovani raccontati dal boccaccio nel Decameron per fuggire alla peste andarono in campagna loro invece sono andate alle Maldive e loro se lo possono permettere e quindi sono andate in un paradiso dove il covid al momento almeno non c'è e allora apriamo subito la pagina del quotidiano e parliamo di sanità vaccini da oggi si prenota la fascia 5 e 11 anni una platea di 20.000 bambini in provincia padre o madre dovranno inserire nel portale la tessera sanitaria il codice fiscale del figlio e le iniezioni partono da domani la platea dei vaccinabili è di oltre 92.000 bambine e bambini in regione di cui circa 20.000 nella nostra provincia divisi tra i 9.000 a Pesaro 8.000 a Fano e la parte restante a Durbino è utile per snellire i tempi di attesa presentarsi al punto vaccinale con la modulistica già effettuata, già redatta insomma per guadagnare tempo l'assessore Salta Martini, l'assessore alla sanità della regione Marche dice l'AIFA ha sottolineato l'elevato profilo di sicurezza del vaccino pediatrico questo per rassicurare i genitori il covid non corre però allo stesso modo dappertutto ecco i comuni più vessati nelle Marche scene particolarmente critiche nelle province del sud ma nel nostro territorio preoccupano Tavuglia, Gradara, Monte Labate e a Pesaro e questa è la tabella che il giornale evidenzia con i comuni dove c'è il più alto tasso di positivi degli ultimi sette giorni in testa vediamo Montefiore dell'Aso, Monteprandone e Senigaglia poi altri comuni del sud delle Marche e in provincia di Pesaro vediamo segnalata Tavuglia, Gradara, Monte Labate e poi il capoluogo Pesaro prima dose la carica dei mille ragazzini e il numero dei vaccinati baby in 13 giorni vanno dai di 12 ai 19 anni si sono presentati agli hub in gruppi di amici o come addirittura classi intere senza costrizioni ma decisi di immunizzarsi d'altra parte gli over 70 che hanno accettato di avere per la prima volta al siero sono stati 71 quindi hanno fatto la prima dose molti non l'avevano fatto per paura insomma è una piccola iniezione di cui gli effetti non si sentano il dolore non si sente minimamente e diamo un'occhiata anche a queste tre tabelle 934 sono i giovanissimi arrivati agli hub sono gli under 19 che si sono vaccinati 71 invece sono gli over 70 ex novax quelli che non volevano vaccinarsi ma che alla fine ci sono convinti 23.148 quelli fermi ad una sola dose che devono fare ancora la seconda questo è un po' un quadro per quanto riguarda quello che accade sulla sanità ed ora cambiamo notizie e vediamo un incontro che c'è stato tra il sindaco no anzi scusate una dichiarazione questo è l'articolo che riguarda la dichiarazione dell'assessore all'ambiente è Aidi Marotti che si accorge che le strade sono sporche e quindi protesta in alcune zone il servizio di polizia avrebbe dovuto essere più puntuale e svolto in maniera più precisa e completa si trovano ancora pezzi di gomma resti di antiche biciclette ribacce un po' su tutte le strade soprattutto si trovano anche delle mascherine e questo ovviamente non va bene per quanto riguarda l'igiene e la sanità pubblica e soprattutto anche per l'ambiente ma l'articolo più bello è quello che riguarda la Rocca Costanza perché questo antico monumento che è veramente un tesoro storico per la città di Pesaro ma per tutta la provincia di Pesaro Urbino verrà restaurato c'è stato un patto un accordo raggiunto tra Comune ed Emanio vi sarà trasferito l'archivio di Stato ma resterà anche un ampio spazio a disposizione della città per gli eventi l'importante è anche che venga aperto per le visite guidate perché questo caposaldo è veramente un monumento di grande importanza chiuso per tanto tempo era stato trasformato infatti in carcere i particolari sono questi i particolari dell'accordo la spesa totale è di 5 milioni e 400 mila euro 1 milione e 400 mila arrivano dal Ministero della Cultura attraverso gli archivi di Stato 3 milioni e 600 mila euro sono dell'Agenzia del Demanio e altri 400 mila euro sono stati messi in campo dal Comune di Pesaro per ricavare una seconda uscita di sicurezza all'incontro è stata presente anche la direttrice dell'archivio di Stato della città Sara Cabrini qui siamo in balia dei vandali fermateli è appunto il titolo che riguarda l'incontro tra il sindaco Matteo Ricci e i cittadini di Santa Veneranda che hanno avanzato richieste soprattutto sulla sicurezza sulla viabilità e sulla sanità per quanto riguarda la sicurezza stradale si è parlato soprattutto dei pericoli che incombono sulla bretella di Santa Veneranda tra le opere compensative della terza corsia insomma ci vuole una nuova rotatoria sperimentale all'incrocio tra strada Ponte Valle e strada di Valle Tre Sole il tracciato è pericoloso per via della velocità tenuta dagli automobilisti incuranti degli attraversamenti pedonali le questioni venute a galla dicevo sono molto annose come chiedere i tempi di realizzazione della bretella di Santa Veneranda tra le opere compensative della terza corsia e poi ci vogliono le telecamere perché il quartiere è vessato dalla presenza di un gruppo di piccoli teppisti sono adolescenti che si abbandonano ad ogni genere di trasgressione e quindi occorre porre un freno per quanto riguarda la sanità la gente ha martellato gli amministratori con il caso del nuovo ospedale da realizzare a Moraglia aggravato dalle notizie allarmanti di un collasso del pronto soccorso questo è un problema che non riguarda solo il quartiere di Santa Veneranda interessa un po' tutta la città e direi anche tutta la provincia insegnanti ora pensionati il sindaco ne ringrazia 72 ieri il sindaco Matteo Ricci ha incontrato gli insegnanti che sono andati in pensione sono 72 la cerimonia si è svolta nella sala del consiglio comunale Ricci e l'assessore Ceccarelli hanno svolto un ruolo fondamentale in questi mesi difficili ha dichiarato e il Carlino pubblica anche la lista dei nomi quasi un ringraziamento per una carriera lunga e impegnativa e poi veniamo alla cronaca veniamo alla cronaca e vediamo che questa volta non si parla di violenze di un uomo nei confronti di una donna ma si tratta delle violenze di una donna nei confronti di un uomo botte al suo ex maestra d'asilo condannata due anni ad una 35enne docente di sostegno in una scuola di infanzia le umiliazioni ti disintegro ti faccio finire in mezzo alla strada avrebbe detto al suo ex compagno insomma una donna energica che se la prendeva con pugni graffi insulti nei confronti del partner finché quest'ultimo non si è stancato e l'ha denunciata all'ennesimo episodio l'uomo ha deciso di denunciare la convivente ed è stata condannata e poi abbiamo un caso di stalking telefonata luna di notte per un mese alla farmacista che questa è una donna che è stata condannata ad un'amenda di 500 euro ma questo articolo riporta anche un altro caso si tratta di un nome che è già noto alla giustizia è quello di Nino De Luca uno dei quattro imputati condannati per l'omicidio di Sesto Grilli il pensionato di San Lorenzo in campo il De Luca è finito a processo per avere mollestato una donna di origini stranieri con avanza sfondo sessuale via cellulare e poi a processo ci va anche il direttore di Dell'AMAT Gilberto Santini alla sbarra da Ascoli Piceno Gilberto Santini molto conosciuto anche nella provincia di Pesaro Urbino per tentata violenza privata ovviamente il processo è in corso di svolgimento l'udienza che si è svolta ieri non non si è conclusa è stata aggiornata insomma ci sarebbe una denuncia che riguarda un tentativo un tentativo di costrizione ad una donna che faceva degli spettacoli a Civita Nova che sarebbe restato insomma detto non li fare perché sennò danneggi l'AMAT una cosa del genere detta terra terra giriamo ancora le pagine vediamo che una donna prendeva il sussidio il sussidio per quanto riguarda il reddito di cittadinanza però aveva vinto 180 mila euro ai giochi d'azzardo e come difesa il suo avvocato ha detto ma poi gli ha persi tutti questi soldi e quindi la donna era rimasta in povertà comunque è stata condannata per truffa ai danni dello Stato e residente a Vallefoglia l'imputata è una 51enne originaria della Puglia e residente appunto a Vallefoglia vediamo ora la pagina di Fano si parla del biodigestore perché sono stati rese note le ditte che hanno partecipato che hanno mostrato la volontà di aderire all'occasione presentata dall'ASET per realizzare questo impianto a cura della società controllata dal comune di Fano si tratta di quattro aziende marche multiservizi non c'è si tratta di Feronia la società di Porto Sant'Elpidio in attesa di autorizzazione per un impianto da 40.000 tonnellate accanto alla discarica di barchi poi della Siram una società della Parigina Veolia della Acea Ambiente del gruppo Acea di Roma della Ecolat SRL del gruppo Toscano Estra con il quale ASET già gestisce attraverso AES la distribuzione del gas lo vedete nelle fatture che arrivano a casa dove va l'economia marchigiana gli esperti rispondano si terranno domani a Fano gli stati generali dell'economia marchigiana con la presenza di Banca d'Italia che illustrerà il report sulla economia regionale relativo al 2021 con l'indicazione dei settori che hanno maggiormente resistito a tutti gli effetti critici che la pandemia ha provocato appunto sulla economia stessa e oggi i ragazzi del liceo classico Nolfi faranno vacanza faranno vacanza perché nell'istituto centrale si è rotto l'impianto di riscaldamento si è rotto nella giornata di ieri gli operai tecnici della provincia hanno lavorato intensamente per cercare di ripararlo entro la giornata di ieri ma non ci sono riusciti perché il danno è piuttosto grave quindi i lavori procederanno anche oggi non è stato possibile svolgere in concomitanza anche l'azione didattica per cui i ragazzi sono rimasti a casa si dice si spera di concludersi entro oggi quindi domani si dovrebbe tornare a scuola e poi vediamo ancora sul resto del Carlino Fano Grosseto i sindaci fanno squadra è un articolo che riguarda un incontro del sindaco Massimo Seri ieri a Grosseto con il sindaco di questa città si tratta di Anton Francesco Vivarelli Colonna entrambi hanno concordato di pressare il governo per l'ultimazione della Fano Grosseto accostando la loro voce a quella della regione Marchi che da tempo insiste appunto perché l'arteria venga completata però con quattro corsie e non con due come si era preventivato recentemente insomma un'arteria che dovrebbe collegare efficacemente i due mari il Tirreno e l'Adriatico lavori in superstrada incidente a Falcineto il traffico va in tilt è un incidente che si è verificato ieri nel tratto tra Bellocchio e Lucrezia alle 9.30 dalle 9.30 alle 13 ci sono stati problemi e disagi alla circolazione e poi vediamo la pagina di Urbino la pagina di Urbino cinque dipinti predati da Napoleone da domani visibili a Palazzo Ducale alle 16 vengono presentate al pubblico le opere che erano state trafugate dalle truppe napoleoniche e ora portate allora portate alla Pinacoteca di Brera rientrano così nelle Marche due quadri del Barocci altrettanti dei Simone e Cantarini e uno del Pomarancio sono opere importanti capolavori tant'è che quando le truppe napoleoniche venivano nelle nostre località sceglievano in maniera oculata i capolavori da depredare molti sono stati portati a Louvre ma il capolavoro dei capolavori che tutta la provincia vorrebbe che tornasse nella sua sede originaria è la Pala di Brera ovvero la Pala Montefeltro diciamo meglio la Pala che figurava nel Mausoleo dei Duchi a Urbino che è un capolavoro da ripristinare da tanto insomma che si chiede che torni nella chiesa del cimitero di Urbino ora aspettiamo di riavere la Pala del Monte ed ora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico dove i richiami in prima pagina riguardano i Novax a scuola il caso c'è da oggi protezione obbligatoria per entrare in classe 800 sono coloro sprovvisti tra docenti e personale appunto delle Green Pass istituti primari a rischio Natale in zona bianca ma dal 27 la regione potrebbe andare in giallo oggi si prenotano i bambini vince al gioco ma non dichiara ed è condannata a Vallefoglia a Fermignano una nonna e un niputino sono investiti da un'auto e versano in serie condizioni lei è al Torretti di Ancona e il bambino è al Salesi appunto della cittadorica a San Costanzo un violento schianto lungo la Adriatica ferito un 66enne e poi vediamo le tre discariche provinciali usate per aumentare gli utili ebbene sono le aziende che gestiscono queste strutture che accettano rifiuti provenienti da fuori ambito diciamo così e quindi hanno degli incassi e quindi aumentano gli utili che poi vengono distribuiti come accade a Pesaro nelle scuole 800 Novax tra ferie aspettative sarà incubo supplenze perché questi non potranno insegnare non potranno venire a scuola e poi abbiamo il caso di una professoressa che è a casa da tre mesi dice non faccio test né vaccino ma senza lavoro è dura si tratta di Roberta Salimbeni che è insegnante di Fabriano ricevo minacce e insulti ha dichiarato gli hanno chiesto ma da dove nasce questa sua diffidenza verso il vaccino e l'insegnante ha risposto mi sono documentata sono un insegnante non prendo le cose alla leggera ho ascoltato medici scienziati pareri diversi e sentito informazioni contrastanti sul vaccino mi sono fatta una mia idea poi adesso l'80% delle persone è vaccinata eppure il covid lo prende quindi il vaccino non serve a contrastare il contagio questo è quanto ha dichiarato questa signora di cui viene pubblicata la foto Rocca Costanza storico accordo per il recupero sarà pronta tra tre anni Rocca Costanza è stata costruita nel 1474 e costituisce la più importante opera di fortificazione della città pensata e commissionata da Costanzo Sforza il 28 ottobre del 1500 Cesare Borgia occupò la città e ha fatto confluire nel fossato della Rocca l'acqua dell'Adriati e quindi era un fortilizio di grande importanza di grande tenuta anche strategica sarà il regno della cultura spazio anche ad un museo il sindaco Ricci e l'eredità che verrà lasciata ai pesaresi con il recupero di questo bene storico ed ora vediamo l'articolo che riguarda i rifiuti vediamo qui la foto dell'assessore all'ambiente della regione Marche Stefano Aguzzi le discariche usate per fare cassa violata la pianificazione regionale nei tre impianti provinciali sono stati conferiti rifiuti speciali fino al 118% degli indifferenziati rispetto ad un limite che era stato fissato al 50% quindi migliaia di tonnellate di rifiuti sono giunti da fuori delle Marche e ovviamente c'è anche la protesta dell'opposizione in consiglio regionale qui vediamo la foto della capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri ha detto non c'è discontinuità con la precedente giunta la consigliere regionale Ruggeri contro le scelte dell'assessore Aguzzi e ancora l'incontro a Santa Veneranda la bretella arriverà intanto i residenti vogliono il Vista Red per assicurare la sicurezza sulla viabilità mentre un nuovo bando per lo sport dal Comune assicura altri 90.000 euro una misura straordinaria questa a sostegno delle attività che hanno resistito alla pandemia e anche lo sport ha sofferto molto per quanto riguarda le limitazioni che sono state varate per contrastare il virus forze dell'ordine in servizio e vaccinate così dovrebbe essere l'incertezza debutta però insieme all'obbligo 5 giorni per avere un quadro certo sul numero dei sospesi le valutazioni del SILP e del SILP che sono i sindacati che tutelano appunto i lavoratori che sono occupati in questo settore molto importante per la vita sociale una situazione complessa per i vigili del fuoco soprattutto in servizio nella nostra provincia dove potrebbe essere sospesa una ventina di operatori per il rifiuto di immunizzarsi il numero dei non vaccinati che fino a qualche giorno addietro era stimato attorno al 20% dell'organico totale della nostra provincia dovrebbe dovrebbe comunque essere in flessione ed ora diamo un'occhiata alla pagina di Urbino investiti nonna e nipote di un anno l'automobilista abbagliata dal sole è un incidente che si è verificato a Ferminiano sono stati investiti da una Fiat Panda condotta da una donna di Urbino le vittime la donna con il bambino travolte in viale Piave a Ferminiano i due feriti soccorsi dalla Eliambulanza sulla pagina di Fano si parla del biodigestore arrivano le quattro proposte e ci sono veramente i quattro colossi delle multi utility alla scadenza delle manifestazioni di interesse presenti con Ferronia la francese Veolia Acea Ed Est poi vediamo ancora l'articolo che riguarda l'alleanza Trafano e Grosseto per completare l'autostrada e sulla Val Metauro una proposta del consigliere regionale Rossi insomma modificare il regolamento regionale esistente per inserire le birre artigianali nel paniere dei prodotti obbligatori che gli agriturismo devono servire ai propri clienti è una proposta appunto del consigliere regionale Rossi e anche il Corriere Adriatico evidenzia la chiusura del Nolfi il giorno di vacanza per i ragazzi del liceo e questo per oggi è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento come sempre alla rassegna stampa di domani buona giornata è tutto Grazie a tutti.